Dopo cara insieme a Corbi della città di Latina Oratorio, sfallisce quindi la possibilità, sfuma questa occasione di fermare questa capolista, ci avete provato in tutte le maniere, vantaggio, hanno ribaltato il risultato, sono andati a riposo con il minimo vantaggio, poi nella ripresa c'è stata proprio una volata, una doppia occasione per te, sfruttata, ma non è bastata. Come al solito noi ci mangiamo troppi gol davanti alla porta, ecco la pecca che abbiamo. Abbiamo avuto più di un'occasione per concretizzare ancora di più il vantaggio, però tra pali e portiere che ha parato, complimenti, non c'è stato niente da fare, loro le occasioni che hanno avuto le hanno buttate dentro e questo fa la differenza. La differenza la fanno le occasioni, comunque il città di Latina non ha niente da farsi rimprimangere o forse nella circostanza della possibilità del vantaggio di gestire forse meglio il doppio vantaggio? Forse sì, noi abbiamo troppo la foca di andare avanti e di non stabilizzarci sul vantaggio, noi abbiamo troppo la foca di andare avanti e di cercare ulteriori gol. Ci manca un po' la calma per gestire meglio le partite, però devo dire che con questo gruppo si sono fatti dei miglioramenti e penso dalla partita di oggi si sono visti veramente questi miglioramenti in confronto all'inizio del campionato. Andiamo anche ad analizzare questo confronto, Saccucci oggi hai dovuto fare di straordinario, comunque hai sostituito il tuo collega assente in maniera molto egregia, qualche pecca su qualche gol, però alla fine poi non hai fatto rimpiangere la sua assenza. Certo, comunque grazie per i complimenti anticipati e certo sostituire Piero non è non è facile, è un grande giocatore, grande persona, ci ho messo il mio, ci ho messo quello che faccio sempre insomma, qualche pecca sul gol è dovuto anche molto al forte caldo che c'era oggi, che non riuscì proprio a spezzare il fiato oggi. Poi, bella partita combattuta tra tutte e due le squadre, siamo felici che siamo usciti con i tre punti e questo è l'importante. Grazie. Grazie. Grazie.